Il mar Mediterraneo, il mare Nostrum o mare Mostrum, che dir si voglia, perché cimitero liquido dove in questi anni è stata inghiottita dalle acque una moltitudine di innocenti, è una distesa blu, dai confini indefiniti, che unisce e separa popoli quasi fosse il sottofondo di un mosaico costituito da una molteplicità di interessi, da tessere che compongono in dissolvenza scenari sempre più inediti. E se da una parte le storie odierne parlano di un'Europa divisa sulla gestione del fenomeno migratorio, dall'altra, guardando soprattutto al continente africano, si evidenziano macro aree pesantemente segnate da instabilità politica, diseguaglianze, conflitti e vulnerabilità socio-economica. Solitamente la grande stampa internazionale mette in evidenza le turbulenze che provengono dal Medio Oriente, ma l'Africa non è da meno. È indubbio, ad esempio, che i flussi energetici e i termini generali, quelli delle materie prime, tra i paesi produttori localizzati sul versante africano del Mediterraneo e i paesi consumatori, disseminati a livello planetario, hanno riflessi geopolitici di grande rilievo. D'altronde, il Mediterraneo non può essere inteso semplicemente quasi fosse un piccolo mare a sé stante, quanto piuttosto come connettore fra i due grandi oceani, Atlantico e indiano. Ecco che allora, lungo le 2319 miglia nautiche che congiungono Gibilterra a Suez, si gioca una partita commerciale non indifferente. Questo segmento lineare, geograficamente parlando, rappresenta più di metà della distanza tra Norfolk e le colonne d'Ercole. Stante la correlazione, è evidente che più passerà il tempo e più vedremo flotte di vari paesi impegnate in operazione di libera navigazione, gergo con cui il diritto internazionale consuetudinario affina la minaccia di tagliare le rotte antagoniste. La verità è che la competizione fra i porti del Mediterraneo. Impegnati a contendersi quote di traffico mercantile, ha generato alleanze fra compagnie di trasporto marittimo che fanno da sfondo a nuovi percorsi, come quello della via della seta voluto dal governo di Pechino. Se a ciò aggiungiamo i traffici illeciti, come quello degli stupefacenti, le preoccupazioni sono più che giustificate. Per quanto concerne la questione demografica, è opportuno evidenziare che il Mediterraneo risulta attraversato da dinamiche che sembrano condurre a profonde trasformazioni. Infatti le società dei paesi della sponda settentrionale presentano un andamento demografico negativo, peraltro associato a un invecchiamento progressivo della popolazione dovuto al basso numero di nascite e all'allungamento della durata della vita media. Mentre i paesi della sponda meridionale africana stanno vivendo una vera e propria esplosione demografica, con classi d'età giovanili particolarmente ampie. Basti pensare che in Africa l'età media è complessivamente di 20 anni. Stanti gli scenari di medio-lungo periodo appare probabile che il Mediterraneo continuerà nei prossimi anni ad essere una frontiera critica caratterizzata da fluidità e tensione. Peraltro l'attuale pandemia Covid-19 ha acuito la divaricazione tra la sponda europea e quella africana non solo dal punto di vista medico-sanitario, ma anche per quanto concerne l'agoniata sostenibilità. Questo significa che si sono acuite le differenze interregionali nell'andamento demografico, nei tassi di crescita e nella distribuzione del reddito nazionale, nella configurazione politica istituzionale e nell'incidenza della globalizzazione a livello socioculturale ed economico-finanziario. Pertanto, cristianamente parlando, non è lecito stare alla finestra guardare, anche perché, è il buonsenso ad indicarlo, il superamento delle linee di frattura e l'avvio di un processo di sviluppo sociopolitico ed economico omogeneo nell'interno del Mediterraneo è interesse davvero di tutti. Come ha scritto pertinentemente Papa Francesco nella sua ultima enciclica sociale, Fratelli Tutti, abbiamo bisogno che un ordinamento mondiale giuridico, politico ed economico incrementi ed orienti la collaborazione internazionale verso lo sviluppo solidale di tutti i popoli. Questo alla fine andrà a vantaggio di tutto il pianeta, perché l'aiuto allo sviluppo dei paesi poveri implica creazione di ricchezza per tutti.